Allora partecipare a questo master è stata un'esperienza assolutamente positiva sia il format online che anche il fatto che ci siano stati dei progetti dopo che abbiamo potuto trasformare dalla teoria alla pratica perché un conto è ascoltare un webinar prendere appunti studiare un conto è poi mettere in pratica veramente. Consiglierei questo master a tutte le persone che vogliono avvicinarsi al mondo digitale che magari ci lavorano senza avere una formazione specifica o che invece non ci lavorano e vogliono proprio cominciare a entrarci dentro.